Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campana in lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Padre Federico Oh, Serezio, grazie a Dio Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in frigione E mia madre, mia sorella Ezio Claudia Stai bene? Sì, ma nostra madre è sconvolta Ho posto resistenza in loro Qui sono in pericolo Puoi portarvi da qualche parte? Sì, sì, da mia sorella Bene, d'accordo Intanto andrò a trovare mio padre State attento, Messer Ezio Le guardie cercavano anche voi Allora, verdura appena colta! A tutti i mercanti che operano entro le mura della nostra gloriosa repubblica La città ha saggiamente incrementato l'imposta nominale sulle esportazioni delle strade di cura Ehi, quell'uomo mi conosco Andrò, un'altra parte S posiziona Mani definizione Lo fa Non umarmamento Ecco Un�를 Fatt surplus Attre Alcanzia Mar아 CominNT Cosa Jove Jove Chine Ch Governor Milka In Cosa Jovain Cosa M In Is Torna giù! Cosa? Torna subito qui! Torna giù! Torna giù! Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parlano strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messeruberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla Sorombaia. Diceva... Va, Ezio. Presto. Grazie. 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 Grazie.